Buonasera buonasera benvenuti perché non ti piaci più con questo colore come mai l'hai appena fatto cioè intendo dire questo colore ti è stato fatto da poco tempo da qualche mese e basta oppure un colore che stai facendo da anni però ti guardi allo specchio e c'è qualcosa che non va non ti vedi più bella stasera parliamo di colore argomento della serata il colore che ti sta bene o non ti sta bene che ti piace o che non ti piace il perché andremo ad analizzare tutte queste parentesi mi presento per tutte quelle amiche e quegli amici che ancora non mi conoscono io sono paolo e circa 35 anni fa insieme alla mia socia rosa abbiamo fondato parrucchieri revolution nostro obiettivo darti i migliori capelli di sempre e per riuscire in questo abbiamo capito che sono necessari cinque passaggi le cinque fondamenta della revolution consulenza cute sana che generi un capello sano un capello sano non rovinato da precedenti trattamenti chimici o meccanici quali legare i capelli troppo stretti o passare troppo la piastra o il phon similari il taglio che deve sempre sempre essere eseguito con le forbici a lama piena e mai con sfoltitrici o spilzini e il colore che faccia sempre 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 un complimento alla tua figura e al taglio queste sono le cinque fondamenta della revolution e stasera lavoreremo proprio sulla consulenza perché inevitabilmente lavoriamo sempre sulla consulenza e sul colore il colore perché non ti piace non ti convince perché quando ti guardi allo specchio capisci che c'è qualcosa che non va malgrado magari il colore sia bello beh se l'hai appena fatto appena fatto intendo dire magari anche da quattro cinque mesi è perché magari lo desideravi tanto quel colore e ti sembrava che su di te potesse stare bene oppure il parrucchiere ti ha consigliato quel colore perché magari è un colore di moda è appena uscito ma in realtà c'è qualcosa che non va e quel qualcosa che non va è molto semplice te lo spiego subito non hai le paturie è perché in qualche modo non va bene con i tuoi colori o con il taglio la linea del taglio che hai non è abbinata al colore o meglio il colore non è abbinato alla linea del taglio che hai oppure cosa più frequente ai tuoi colori colori dei tuoi occhi delle tue sopracciglia e della tua pelle e questo è il caso a se vogliamo vedere è anche il caso un po più semplice poi c'è il caso b il caso b è un caso che succede abbastanza di frequente spesso le clienti nelle clienti nuove specialmente ci capita questa cosa faccio il colore da vent'anni ma adesso incomincio a non vedermi più adesso incomincia a non piacermi più perché comincia a non piacerti più perché è un colore che è andato bene per vent'anni adesso o per dieci anni è ovviamente insomma per un lungo periodo adesso non va più bene te lo spiego subito perché i tuoi lineamenti hanno iniziato a cambiare perché qualcosa nel tuo viso nel tuo incarnito ha iniziato a cambiare è un colore che prima magari poteva andare benissimo perché è in linea con i tuoi colori in realtà oggi non è più in linea con quello che può succedere alla tua pelle e non pensare che mettendo del fard o similari si risolva il problema no no non si risolve perché il colpo il problema del colore capelli capelli incorniciano il nostro viso e sbattono più di quello che tu puoi pensare e col colore noi possiamo illuminare o incupire alleggerire o appesantire il viso i difetti o i pregi a seconda per cui quello che vent'anni fa o quindici anni fa o dieci anni fa andava bene potrebbe essere benissimo che oggi non vada più bene e quando ti guardi allo specchio vedi che c'è qualcosa che non va ma non sai che cos'è pure il colore sempre quello è facile sono magari i primi segnetti che iniziano a uscire la pelle che sta cambiando e tu non ti vedi più cosa devi fare e vorrei cambiare e vorrei cambiare colore perché col colore puoi anche illuminare puoi attenuare puoi rendere molto più bella e brillante la tua pelle chiaro che se capello magari un po lungo colore un po scuro va da sé ti stai facendo del male per cui non aspettare che questo processo diventi più evidenti interviene prima prenota la consulenza della revolution 03 71 89 89 00 noi siamo san colombano all'ambro in via cesare battisti al 20 barra 1 vieni da noi ti prenoti una consulenza e noi ti spiegheremo tutto quello che possiamo fare per ridarti tutta la luce che il tuo viso bisogna oggi vi aspetto con una nuova diretta mercoledì alle ore 12 con la mia socia rosi invece noi ci vedremo venerdì prossimo sempre alle ore 18 e 30 circa chiaramente buona serata e buon weekend a tutti ciao